Beta Galeano Buongiorno. Ciao Elisabetta, ciao, ben arrivata. Elisabetta è money coach e penso che tu sia al tuo primo talk al freelance camp o sbaglio? Esattamente, sì, esattamente. Sono al mio primo talk, sono per seguire e anche mi sono lanciata per parlare. Ok, penso che i tuoi auricolari sbattano sugli orecchini perché sentiamo un clic clic. Ok, scusate, faccio così. Ecco, tecnica del suono all'impronta. Ok, eccoci. Voilà. Ti lascio la parola, grazie. Ok, allora condivido le slide un attimo. Ecco, dovremmo esserci. Allora, sono molto emozionata di essere qui, in effetti appunto sono qua per la prima volta, quindi riesco a parlarvi. Adesso, scusate, ma non ho conferma che le slide siano condivise. Ok, ok, eccoci qua. Quindi, parliamo di app, un strumento molto molto pratico, ma prima mi presento. Sono Elisabetta Galeano, sono una money coach, supporto quindi le persone nel creare un rapporto consapevole con le proprie finanze personali, sia dal punto di vista pratico, quindi utilizzando strumenti come appunto le app di che sono una parte o budget, eccetera, sia dal punto di vista emotivo, quindi andando ad approfondire il mindset piuttosto che la parte della propria storia economica. In sostanza, le persone che si rivolgono a me partono da questi due grandi, grandi quesiti. Come faccio a non avere l'ansia quando guardo il saldo del mio conto corrente o come faccio a iniziare a risparmiare, oppure entrambe le cose. Sono in questo mondo del freelance da relativamente poco, prima sono stata dipendente per dieci anni e molti degli strumenti che poi vado ad utilizzare effettivamente nell'ambito delle consulenze li ho un po' anche mutuati dall'ambito aziendale, perché insomma gli strumenti che ad oggi abbiamo a disposizione sono veramente tanti e ci aiutano molto, ma soprattutto c'è un'app per tutto, questa sicuramente l'avrete già sentita. Infatti, secondo lo State of Mobile 2022, ciascuno di noi trascorre circa un terzo della propria giornata da svegli utilizzando il cellulare, quindi circa cinque ore al giorno le trascorriamo con il cellulare in mano. E questo cosa vuol dire? Che sicuramente possiamo sfruttarlo, sia per tutte le varie funzioni di distrazione che ha, ma anche per facilitarci la vita, per semplificarci la vita, perché in fondo lo scopo di molte app è questo, quindi velocità di utilizzo, sempre a portata di mano, ci permette di essere molto, molto rapidi nel mettere in pratica tante cose. Infatti, nell'ultimo anno, sempre secondo lo State of Mobile 2022, il download di app mondiale in generale è cresciuto del 5%, quello delle app finance è cresciuto del 28%, segno che appunto proprio questo tipo di app stanno andando sempre più a supportarci in un ambito che per tanti spesso risulta essere ostico. Di quali app parliamo? Tre tipi di app in particolare ho scelto oggi. L'app della tua banca, l'app per tracciare entrate e uscite e l'app per dividere le spese. Sono poi tra loro interconnesse, ma adesso entriamo nel vivo e capiamo meglio. Innanzitutto, l'app della banca. Potrete pensare che sia una cosa molto semplice, molto, molto ovvia avere l'app della banca. In realtà, non lo do più per scontato, perché poi tante delle persone che alla fine si volgono a me mi dicono ah, ma io sì, l'app della banca non la uso. A cosa può esserci realmente utile l'app della banca, quindi quella con cui riesci a tenere sotto controllo il tuo conto corrente? Innanzitutto, appunto, ad avere proprio il controllo sul tuo conto. Cosa vuol dire? Che tornando alle motivazioni principali, cioè l'ansia di guardare il conto, renderci tutto molto, molto più semplice ci aiuta anche a combattere questo tipo di ansia. Quindi se devo fare, non lo so, andare al computer piuttosto che andare allo sportello e complicarmi la vita, è ovvio che già mi passa la voglia. Se invece ho semplicemente da fare due click, mi sto già aiutando, mi sto facilitando il compito. Inoltre, posso facilmente attivare le notifiche ed essere cosciente di ciò che avviene, sia a livello di addebiti, ma anche a livello di accrediti. Com'è bello svegliarsi la mattina e scoprire di aver ricevuto un bonifico. Anche questo ci dà carica emotiva nello svolgere al meglio il nostro lavoro. Quindi poter avere sotto controllo cosa sta succedendo ci permette poi anche di utilizzare al meglio la seconda tipologia di app che andremo a vedere, quindi quella per tracciare entrate e uscite, per cui attivando le notifiche tutta la parte di movimenti che sono addebitati o accreditati direttamente sul conto non mi sfugge e riesco a tenerne traccia più facilmente. Infine, un ultimo aspetto molto molto utile di questo tipo di app è quello di poter accantonare facilmente tasse e contributi. Sappiamo che le nostre entrate sono lorde, non come nel caso appunto dei dipendenti. Di conseguenza, una certa percentuale in sostanza non è nostra, io dico solitamente così, quindi c'è una parte da dedicare a tassi e contributi che è bene togliere subito dalle proprie entrate onde evitare di incorrere poi in problematiche al momento in cui bisogna andare a pagare. Tra l'altro tema che credo verrà poi affrontato più nel dettaglio da Laura Rubini dopo negli speech, per cui sarà sicuramente interessante capire di più anche di questo, perché infatti come faccio a capire quanto devo mettere via per tassi e contributi? Devo chiederlo al commercialista semplicemente. Inoltre ci sono anche delle app di banche, un esempio che mi viene è quello di Unicredit, che hanno già la funzione che vediamo nella seconda tipologia, cioè quello di tenere traccia di entrate e uscite. Quindi già nell'app della banca viene fatta una suddivisione, ma appunto poi esiste una marea di app utili per svolgere questa funzione di tenere traccia di entrate e uscite, che è un compito che a tanti sembra difficile o sembra per ricchi. Tendenzialmente chi non lo fa mi dice ah non lo faccio perché tanto io non ho abbastanza soldi, non sono ricca, ho pochi soldi. Ecco, in realtà è proprio quello il caso in cui è più utile prendere questa buona abitudine, che è un po' come mettere la crema viso al mattino, cioè un'abitudine quotidiana che ci aiuta a stare meglio. Perché ci aiuta a stare meglio? Perché in quel momento in cui noi conosciamo esattamente le nostre entrate e uscite potremo dirci consapevoli realmente di ciò che accade e non domandarci più ma dove sono finiti i miei soldi. Ma saperlo ci permette poi anche di andare a guardare i dati con occhio critico e quindi fare delle analisi e fare delle scelte appunto consapevoli. Perché tante volte chi dice ah riesco a tenere tutto in mente io lo so quanto spendo, tendenzialmente sì, hai in mente quello che spendi per l'affitto, il mutuo, insomma comunque le voci principali, la rata della macchina, queste cose qui. Ma avere tutto tutto in mente direi che è abbastanza impossibile. Anche perché le spese che sono le più subdole sono quelle piccole perché poi si accumulano e tendono a diventare grandi senza che ce ne accorgiamo. Cioè se io spreco 10 euro al giorno in un anno ho sprecato 3650 euro che proprio pochi pochi non sono almeno dal mio punto di vista. Infine avere contezza delle nostre entrate uscite ci permette anche di pianificare obiettivi, i nostri obiettivi in funzione della capacità di risparmio di ciascuno di noi. Su questa tipologia di app mi soffermo un attimino in più perché credo che sia un'abitudine davvero importante per poter fare delle riflessioni utili sul proprio denaro soprattutto quando non si hanno delle entrate e uscite fisse. A maggior ragione diventa un'abitudine davvero utile. Non esistono solo le app, ci sono anche altri strumenti. Durante le consulenze io illustro gli strumenti a disposizione perché scegliere, come vedremo adesso, lo strumento giusto per tenere traccia delle entrate e uscite è importante che, come dicevo prima, mi semplifichi la vita quindi che sia adatto a me. E non è detto che se provo un'app e dopo due settimane mollo io non sono in grado di portare avanti questa cosa. Magari semplicemente non ho scelto lo strumento giusto o non è quella l'app che fa al caso mio. O non sono abbastanza motivato in quel momento per portare avanti questa abitudine. È per questo motivo che quindi non è detto che quella che uso io magari vada bene anche per te, cioè ognuno, in base alla sua caratteristica, adesso vedremo meglio è bene che scelga quella che più gli è comoda. C'è un'altra caratteristica delle app che è quella che ce ne sono veramente veramente tante e questo ha dei pro e dei contro. Il pro è che appunto nell'ottica di scegliere quella che fa più al caso mio sicuramente in mezzo al mare dell'offerta ce ne sarà una con cui mi troverò bene. Il contro è proprio quello di andarsela a cercare in mezzo a questo mare. Però adesso vi lascio sia qualche dritta su come scegliere l'app sia poi dei nomi effettivamente di app utili. Quindi come scegliere? Qual è l'app giusta per me? Dopo che ne ho sicuramente provata più di una cioè ne scarico almeno due o tre almeno le provo, ci gioco un attimino metto dentro numeri a caso vedo se la cosa mi sta bene o no innanzitutto deve risultarmi semplice l'attività. L'obiettivo è quello di semplificarmi il lavoro questa è una cosa che già a tanti sta antipatica se ci mettiamo ad utilizzare un metodo che in realtà ci ostacola in qualche modo è ovvio che non riusciremo mai a prendere questa abitudine quindi deve darmi proprio la possibilità di essere semplice, immediata. Inoltre deve avere tutte le funzioni di cui ho bisogno se ad esempio oltre a tenere traccia delle entrate e delle uscite voglio utilizzarla anche per creare il mio budget per darmi dei limiti di spesa oppure per distinguere le spese che ho fatto in contanti da quelle che ho fatto col conto corrente da quelle che ho fatto con Satispay l'app che scelgo deve avere già tutte queste funzioni e caratteristiche. So che appunto alcune cose possono sembrare banali però poi in effetti nel momento in cui si va a scegliere non è poi così semplice perché ripeto ce ne sono veramente tante. Infine deve farti sentire a tuo agio come quando indossi un abito che proprio ti fa stare bene ecco quello che metteresti per fare la spesa o per la serata di gala quindi stai bene con quell'app ti rende semplice la vita. Ad esempio se sono una persona a cui piacciono i colori piacciono le cose colorate è bene che io scelga un'app colorata che mi metta allegria se invece utilizzo un'app tutta nera o tutta molto schematica magari mi crea angoscia e non mi sto aiutando nel creare questa abitudine ma mi sto ostacolando perché il metodo che uso non collima col mio modo di essere oppure magari ha un'icona molto simile a quella dell'app che ho accanto quindi mi sbaglio sempre a cliccare va a finire che mi scoccio non voglio più usarla perché non trovo mai quella giusta. Sono piccoli dettagli che però fanno la differenza nel semplificarsi la vita nell'utilizzo di queste app. Ovviamente ecco dicevo ce n'è una marea io un po' ne ho sperimentate un po' personalmente un po' no però comunque ci ho messo il naso queste sono alcune che ho trovato molto molto valide e le ho messe diciamo in ordine di livello di dettaglio sono tutte ottime tutte abbastanza semplici da utilizzare. Moneyify è quella che ha meno funzioni però non vuol dire che sia peggio delle altre nel senso è molto semplice è molto chiara schematica l'apri c'è un bel grafico con le categorie due pulsantoni più e meno quindi entrate e uscite e finisce lì. Molto semplice da utilizzare molto chiara pochi fronzoli diciamo però anche poco livello di dettaglio ulteriore oltre questo. Moneyon invece è un'app diciamo intermedia a livello di funzionalità quindi un po' più ricca di dettagli rispetto a Moneyify sempre tutte molto semplici allo stesso tempo ha una caratteristica veramente importante che è quella di poter creare più account e accedere insieme quindi utile quando si vuole prendere questa buona abitudine insieme ad altri componenti della famiglia. Moneymanager è quella tra queste che abbiamo appena visto ha più funzioni quindi anche quella del budget si possono differenziare i conti come dicevo prima con tanti conto in banca eccetera se ne possono creare fino a 10 già nella versione gratuita ha tutte le statistiche è bella ricca è molto di impatto molto semplice anche questa ma allo stesso tempo ti dà un'idea più completa di ciò che sta succedendo e infine c'è Wallet che è comunque completa come Moneymanager ma ha una funzione in più cioè la possibilità di collegarci direttamente il conto e quindi le transazioni che avvengono sul conto vengono già direttamente prese dall'app quindi uno sbattimento diciamo in meno ci semplifichiamo ancora di più la vita infine l'ultima tipologia di app che andiamo a vedere insieme sono le app per dividere le spese sono quelle app molto utili quando voglio tenere traccia di ciò che accade insieme ad altre persone ad esempio dividere le spese in coppia piuttosto che con i conquilini oppure siamo andati a fare un viaggio insieme con amici due, tre, quattro persone tizio ha pagato l'albergo io ho pagato la cena invece di star lì sempre a dire ah ok ti devo questo te li do poi me li ridai eccetera eccetera creare mille giri di soldi ci sono delle app che ci semplificano la vita da questo punto di vista e che ci permettono di tenere traccia di tutto e di dividere le spese come ci pare quindi diciamo di default solitamente a metà ma posso metterle anche in proporzione in percentuale posso attribuirle solo a uno si possono fare mille cose e sono molto molto utili in questo tipo di situazioni diciamo di due o più persone inoltre ci permettono di avere molto chiare le idee sui nostri debiti e crediti devo dei soldi a qualcuno qualcuno deve dei soldi a me non me ne dimentico qui posso saperlo perché ne tengo effettivamente traccia e quindi poi semplificare alla fine chi deve quanto a chi anche anche in gruppo in questo caso non ho differenziato per per livello perché più o meno queste app di cui vi parlo hanno più o meno tutte le stesse caratteristiche torna il discorso dello scegliere quella che fa al caso mio in funzione del rendermi semplice il compito rendermelo magari allegro se non mi piacciono i grafici a bolle magari non scelgo questa piuttosto che questa quindi le tre app che sicuramente sono molto valide per questo tipo di utilizzo sono Speedwise Settle Up e 3 Count detto questo io ho velocemente terminato qui vi lascio i miei contatti quindi la mail il sito e i social tendenzialmente utilizzo Instagram ma inquadrando questo QR code potete anche accedere alla Moneybox che è la pagina segreta del sito in cui ho diversi freebie quindi scrivendosi alla newsletter si ottiene la password per poi poterli scaricare gratuitamente e niente vi ringrazio e sono disponibile poi dopo per eventuali domande grazie Elisabetta ricordo a tutte e tutti che oltre a esserci poi le stanze le sessioni di chiacchiere nella parte centrale della mattinata poi le slide nei prossimi giorni le metteremo anche sul sito quindi poi potete recuperare tranquillamente il QR code di Elisabetta e tutte le informazioni sulle app che ci ha consigliato grazie di nuovo grazie a voi